meravigliose creature che non siete altro non siete altro che meravigliose creature buon risveglio buon sabato 5 novembre 2022 e che facciamo che dobbiamo fare noi cioè in definitiva noi cioè quelle persone che hanno in comunque aperto la porta a quelle energie che hanno bussato negli ultimi anni negli ultimi quasi tre anni bene noi cosa possiamo fare noi dobbiamo rimanere connessi abbiamo imparato che nel primo periodo ci hanno ciullato ciucciato succhiato tutte le energie attraverso le nostre reazioni emotive bene una volta che è entrato questo insegnamento all'interno di ognuno di noi ecco poi il percorso che viene dovrebbe essere più agevolato no perché là fuori la follia comunque c'è e sarà sempre più più evidente nel corso degli anni c'è però oramai non è che ci abbiamo fatto l'abitudine non vogliamo dare le proprie energie alle reazioni e allora preferiamo dare le nostre energie attraverso il mantenersi connessi connessi tutti i giorni tutti i giorni dobbiamo ricordarci di noi del miracolo che siamo della miracolo che stiamo vivendo proprio ogni giorno una mini vita ogni giorno può essere il giorno buono sia per fare cose belle sia per fare cose buone per sentirsi sempre meglio e rimanere nelle alte vibrazioni questo facciamo poi logicamente no ci piace anche stare un po un po in superficie ci piace un po anche commentare ecco non però come dicevo prima farsi ciullare le energie perché ci servono le energie ci servono nel momento in cui si diventa stanchi e di solito non si diventa stanchi per un lavoro fisico sì c'è una stanchezza fisica ma è una stanchezza diversa dalla stanchezza mentale e dalla stanchezza emotiva una volta che noi diventiamo stanchi e bene niente ci addormentiamo ci addormentiamo e allora la vita ci passa davanti senza che nemmeno ce ne accorgiamo mamma mia che spreco incredibile per questo che in questo breve saluto in questo caldo abbraccio che vi voglio dare in questo giorno vi voglio dire che stiamo per arrivare ad un momento molto particolare l'otto novembre come già accennato nei video in qualche video precedente ci sarà un cambio di energia un cambio di energia mensile molto importante da un certo punto di vista l'otto di novembre sarà anche un giorno perché un giorno importante perché negli stati uniti ci saranno le elezioni di mid term diceva questo cosa vuol dire cosa vuol dire vuol dire tantissimo perché a noi che ci piace sostare nelle proprie interiorità e vedere il mondo da dentro perciò con una visione verso l'esterno ogni tanto ci piace anche vedere come la natura muovendosi smuove le cose e smuove le pedine del gioco dall'otto novembre cambiano le energie oh mamma mia quanta energia terra che ci sarà quanta energia terra che entrerà in quel mese molto importante succederanno cose estremamente importanti il prossimo novembre però insomma succederanno cose diverse proprio dalla prima luna nuova di febbraio del prossimo anno ricordatevi andate a vedere quando sarà la prima luna nuova di febbraio o la seconda luna nuova a partire dal sostizio d'inverno dell'anno prima ecco da lì in poi cambieranno le energie questa volta rimarremo collegati per vedere anche il passaggio che ci sarà da un'energia ad un'altra come lo è stato a febbraio di questo anno quando l'energia è cambiata dalla pandemenza siamo passati al conflitto ecco che da febbraio del 2023 passeremo in un altro numero in un altro colore in un'altra energia che emana un certo modo di essere della natura entreremo in due anni 2023 2024 green nel senso proprio colorati di verde e logicamente quando parliamo di green parliamo anche di crescita una crescita se parliamo di primavera parliamo di mattina parliamo di risveglio da un certo punto di vista è sotto un altro punto di vista che è quello della sceneggiatura del della collettività del sociale di quello che può emergere in superficie sicuramente entreremo nell'era del green da lì in poi ci sarà tutta la politica tutta anche il conflitto ma anche tutto l'aspetto della salute entrerà dentro il colore verde e si andrà a colorare di verde e si parlerà proprio proprio di natura di ambiente tutto quello che ha a che fare con il verde e anche speriamo anche con lo dico la speranza e oramai non c'è più verso proprio dire questa questa bellissima parola che quella faccia bianca ha rovinato porca miseria hop hop bene buona buona giornata un caldo abbraccio a voi tutti quanti e grazie della vostra preziosissima attenzione come sempre forza amore coraggio e volontà mua mua